ciao a tutte eccomi di nuovo qua a farvi vedere le mie ultimissime creazioni non ne ho fatte tante per via del caldo un po come tutte voi immagino niente vi dicevo nello scorso video che sto dedicando mi sto dedicando a incassonare cabochon ne ho fatti altri due e mezzo dopo capirete il perché incassonando dei cammini che ho preso appunto da brillanti creazioni e un molto tutto scoperto che di averne in casa altri due che avevo acquistato molto probabilmente a marzo al lobby show a milano da fantasy craft e niente ve li mostro allora il primo è quello che vi ho fatto vedere nello scorso video la donna alla fine poi ho capito quanti delica di base occorrevano per incassonarlo se non sbaglio erano 80 e niente insomma mi piace davvero tanto sicuramente un camion molto importante che verrà messo in una collana corta perché per far notare appunto la il ciondolo appariscente chiamiamolo così e niente insomma è stato fatto con delica 11 0 grigio adesso non ricordo bene il colore la scatoletta l'ho lasciata al piano sotto e niente però poi magari a chi è interessato insomma me lo dica che gli dirò il colore e niente le rocaille da 15 0 colore matite l'ho decorato con swarovski crystal abbi normali che sono bellissimi sono i miei preferiti e facendo due coroncine lavorando insomma torno a questo cabochon cabochon veramente 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 bello insomma sarà per i colori che sono i miei preferiti e niente insomma ho creato la fascetta per poi agganciarlo alla collana che che farò e niente poi secondo cabochon è la fatina che ho comprato sempre da bell'anti creazione una fatina color panna per cui ho deciso di utilizzare sia le rocaille che le dedica color panna e di decorare utilizzando delle perle swarovski da 4 mm e niente anche questo qua insomma diciamo che mi piace anche se non so che che collana utilizzare se utilizzare una catena utilizzare una organza boh non so ci penserò e niente insomma anche questo qua questo è il dietro è davvero carino poi perché vi dicevo due cabochon e mezzo perché il terzo il mezzo chiamiamolo così è questo cabochon che è quello che vi dicevo che ho acquistato da fantasy craft e insieme a un suo gemello color azzurro che non ho ancora però incastonato un cabochon che mi ho incastonato un po di problemi perché io pensavo che avesse la stessa dimensione di cami di brillante creazione quindi partire con 88 delica di base però non è così perché leggermente più piccolo ho dovuto utilizzarne 80 ma veramente non mi sembrava essere della stessa dimensione di della donna cami ho fatto a vedere precedentemente però boh molto ovviamente lo verrà e niente insomma l'ho incastonato utilizzando delica e rocaille richiamando gli stessi colori del 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 cabochon non l'ho decorato perché sto aspettando un ordine che ho fatto da bricolart il mio primo ordine che mi sta arrivando perché oggi ho visto che me l'hanno spedito per cui seguirà sicuramente una review e niente acquistato un po di gocce ho viste in vari tutorial su appunto amiche perlinatrici e sono venuta la voglia di acquistare per decorare in modo diverso quindi vi farò vedere sia gli acquisti che come ho realizzato poi il il cabochon infine ho creato tipo un'oretta fa proprio recente recente questo anello fiore rosa ho utilizzato vabbè una fascetta in peyote un classico rivoli da 14 e degli svaroschi degli svaroschi da 4 mm per creare appunto i petali ogni colore ogni petalo fu creato messo dentro uno svaroschi da 4 mm di colore diverso sempre sulle tonalità del del rosa insomma mi piace sarà che il rosa adesso mi sta diventando un'ossessione perché il 23 di settembre mi sposo per cui il mio vestito sarà rosa e quindi insomma veramente ragazzi salvatemi dal rosa e niente torniamo a noi e ho creato questi petali un petalo di base i pet dei petali sopra perché era appunto l'effetto mi dispiace insomma che non si veda bene però veramente è carino e niente per ora questo è tutto io sono in fede ragazze questa settimana quindi mi dedicherò a creare a fare video review tutorial insomma sarò tutta per voi noi va bene ciao perlinatrici al più presto